Ci vorranno 500 giorni per realizzare la nuova viabilità tra via Baldaccio D'Anghiari, via Le Cittadini e Pescaiola. I lavori sono quelli previsti dalla realizzazione del raddoppio del sottopasso ferroviario che cominceranno nell'estate 2022. Siamo obbligati a rispettare le tempistiche indicate dalle ferrovie, spiega l'assessore comunale Alessandro Casi. Di fatto però, già da alcuni giorni, ruspe ed escavatori sono presenti nell'area. In realtà stanno cominciando i lavori per l'allestimento del cantiere. L'area sarà perlustrata, bonificata e ripulita. In quest'area potrebbero esservi dei residui bellici, prosegue Casi, e dunque, in attesa dell'ingresso degli operai, ci adoperiamo affinché tutto sia pronto. Un'opera, quella del raddoppio del sottopasso, da tempo discussa quanto attesa, che stravolgerà l'accessibilità e il transito lungo una delle arterie viari principali del traffico cittadino. Una volta allestito il cantiere, questo diverrà operativo. L'opera è invasiva perché verrà edificato un nuovo tunnel, che consentirà l'accesso da via Alessandro Dalborro direttamente in via Baldaccio D'Anghiari, decongestionando molto il centro storico e via Guido Monaco. Andiamo a intervenire sotto una tratta dove viaggiano treni, merci, passeggeri e l'alta velocità, continua l'assessore. È evidente che dobbiamo muoverci nella maniera più corretta possibile per non creare disagi al traffico ferroviario. La Giunta Ghinelli, nei mesi passati, ha approvato anche il progetto esecutivo per il primo lotto dei lavori di riqualificazione dell'edificio situato in corrispondenza del vicino parcheggio Baldaccio. Qui sorgiranno il nuovo punto prelievi e studi medici per poi ospitare anche la Casa della Saluta. Questo porterà anche con sé un maggior utilizzo del parcheggio multipiano.